buongiorno a tutti siamo arrivati al termine di questi dieci mesi di festeggiamenti per i dieci anni di sinestesia sono stati dieci anni lunghi e sono stati anche dieci mesi lunghi perché abbiamo incontrato e intervistato un sacco di persone incredibili che ci hanno raccontato le loro storie che ci hanno raccontato la loro visione legata ai temi tanti temi che abbiamo voluto affrontare nel nostro percorso e nel nostro particolare modo di festeggiare i dieci anni della nostra azienda e ci sono anche tanti ricordi di questi dieci anni che ci portiamo assolutamente alcuni molto forti alcuni molto recenti non so a te cosa viene in mente quali sono le guarda alla fine con questi con questi festeggiamenti abbiamo toccato un po' quelli che sono stati gli argomenti sui quali ci siamo concentrati come sinestesia sia nel passato ma soprattutto che sono gli argomenti del futuro e la nostra esperienza passa poi attraverso tanti di questi temi che riguardano sia le persone che lavorano in sinestesia sia la tecnologia che ovviamente fa parte poi della nostra della nostra vita quotidiana nell'azienda ma poi soprattutto sono emozionanti abbiamo visto anche quanta passione ci hanno raccontato tutte le persone che ci sono venute a trovare e con le quali abbiamo colloquiato su questi temi la passione poi è proprio l'argomento principale che ci ha sempre guidato io ad esempio penso al primo droid con frase se vuoi raccontare un po di questo sì sì sinestesia tra l'altro ha avuto come claim per tanti anni tecnologia e passione noi ancora è così di fatto anche se insomma ci siamo poi evoluti in questa direzione è il primo droid con è stato uno dei momenti topici mi ricordo quando abbiamo deciso appunto di organizzare la conferenza e abbiamo cominciato a lavorarci al tempo eravamo anche in pochi erano un piccolo gruppo in sinestesia quindi è stata una scommessa abbiamo iniziato a lavorare al sito abbiamo pubblicato i contenuti e tutto ma il momento più pazzesco è stato quando qualcuno ha comprato il primo biglietto il momento abbiamo detto cavolo adesso dobbiamo fare davvero perché fino a quel momento era ancora rimasta quasi come una cosa eterea no la conferenza era era ancora in qualche modo nelle nostre menti da lì è diventata qualcosa che era vera tra l'altro poi arrivando nell'ultima edizione fisica a quasi mille partecipanti anzi più di mille partecipanti quindi vedere tutte quelle persone è stato veramente un momento emozionante e poi c'è stato il momento della pandemia certo che ci ha costretti a passare online non solo i nostri eventi ma tutto quello che facevamo tra l'altro la pandemia ha messo proprio in ci ha messo di fronte a tanti temi che sono stati poi anche quelli che abbiamo affrontato nei festeggiamenti il fatto di dover includere i nostri ragazzi da lontano e cercare di mantenere quelli che sono poi i valori che noi insomma abbiamo proprio scritti nel dna della nostra società e quello è stato un momento veramente difficile dove la creatività il fatto di giocare quindi tutto il discorso legato al gaming il fatto di includere tutte le persone che si trovano in condizioni molto differenti quindi chi era da sola casa che aveva la famiglia che aveva i bambini piccoli e trovare delle soluzioni per poi portare avanti la società in quei momenti è stato sicuramente una delle sfide più importanti che ci siamo trovati ad affrontare proprio così ci ha messo la sfida che ci ha messo tutti alla prova nessuno escluso e credo che lo sforzo che abbiamo fatto tutti insieme sia proprio stato quello di cercare di continuare ad andare avanti portando avanti non solo quello che facevamo prima ma anche tutti i valori e tutte le le cose in cui crediamo e continuiamo a credere l'inclusione delle persone mettere le persone al centro le persone per sinestesia per noi sono sempre state il motore sono tuttora saranno sempre il motore dell'azienda saranno quelle che fanno funzionare la nostra azienda è nata attorno alle persone è basata su sulle persone non è retorica ma è proprio reale perché quello che facciamo dipende esclusivamente dalle competenze dalla passione e torniamo al discorso di prima e dalla voglia e la volontà di creare il posto dove volevamo lavorare noi in primis sinestesia nasce con quell'idea lì la vera il vero seme la vera idea di base di sinestesia di dire vogliamo creare una società dove volevamo lavorare noi quindi dove volevamo che poi anche le persone con cui collaboreremo e collaboriamo vogliono vogliono essere il posto in cui vogliono continuare a essere anche nel futuro e poi c'è stato un sacco di creatività perché il droid con di cui parlavi pochissimo tempo abbiamo dovuto trasformarlo in un evento completamente digitale che è stata un po' la sfida di tutto il mondo che opera nel digital noi abbiamo trovato poi anche una soluzione interessante sia dal punto di vista tecnico che poi dal punto di vista della riuscita dell'evento stesso e l'altro nostro evento Swift Heroes ha avuto più di 1500 contatti da tutto il mondo quindi queste sono sono poi le cose che ti fanno capire che insomma credendo poi nelle cose che si fanno si possono raggiungere veramente tanti risultati